Il fattore del metodo dell'organizzazione di questa legge è la TAMI-A. Nell'ambito di questo lavoro di definizione di traduzione integrata, il tema della mobilità che è molto più importante, secondo il mio punto di vista, ma insieme al tema dell'ambiente, della cultura e del welfare, quindi legato anche alla sanità, ma sicuramente non lamentare per tenere i modi e lo sviluppo. Quindi oggi abbiamo un rapporto qui, con loro che si occupano di mobilità, la regione, sapete, da anni impegnata sul tema della mobilità sostenibile, che ha dei trasporti, che ha visto una forte connotazione da parecchi anni sullo sviluppo del trasporto ferroviario. C'è di più il tema dell'intermodalità, il rapporto tra i vari modi di trasporto, porti, aeroporti, trasporto sul ferro e scambio sul torno. Poi c'è il tema della mobilità ciclistica, quindi l'alternativa, su cui stiamo lavorando molto, quindi per esempio che hanno regalato la mobilità ciclistica, stiamo dirigendo la posta di attenzione regionale che ha dovuto vedere la sensuale dei trasporti, stiamo lavorando su molti ciclorie e soprattutto i cruise, sono state emanate alcune anni fa le direttive, ci sono tutta una serie di attività che afferiscono a questa direzione, cioè immaginate una rete, un sistema che possa implementare da un lato il trasporto pubblico, soprattutto più ecologico, e dall'altro favorire il trasporto individuale. Io direi la parola, la signora Giannini si è allontanato, è allontanato, è allontanato, è allontanato. Io vivo sempre con molta preoccupazione quanto le deficienze di questo meccanismo incinano in la vita delle persone, perché come sapete il trasporto pubblico è un trasporto di carattere indifferenziato, agevolato e sussidiato, ovvero che è un servizio che possono prendere tutti i soldi pubblici, pagando una tariffa particolare e pagando una tariffa con il concorso dei soldi pubblici, per cui dentro questo contenitore non c'è soltanto l'amministrazione che gestisce, l'impresa e l'aeroga, ma ci sono le tasse dei cittadini che concordano a dare capienza a questo contenitore. Questo contenitore, questo salvadanaio, per l'altro deve avere 520 milioni all'anno, di cui 400 erogati dallo Stato in concorso, ci danno il contributo, e 120 milioni che provengono dal bilancio autonomo della regione. È ovvio che questo salvadanaio va utilizzato per le reali esigenze dei viaggiatori, cosiddette minime, cioè le minime indispensabili per garantire un'attività. Per questa ragione il primo input che do anche al lavoro di lavoro è sostanzialmente quello, di stare attenti a non confondere. ... 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 tutti quei servizi collaterali di scuola di quanto disgregata la competenza e l'organizzazione per questa ragione la prima unità che ormai è datata 2013 grazie 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 Grazie. 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 Grazie.